bella raga bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale come ben sapete oggi sono uscite le nuove biciclette raga e andremo a sbloccare proprio la tuta da rider di queste biciclette dobbiamo andare in questa posizione dove io ho messo questo segnalino ragazzi e una volta che siamo lì dovremo andare a fare la gara quindi raga è semplicissimo venite qua premete freccia destra questa è la nuova bicicletta e avviamo la gara a tempo dovete semplicemente spammare a per correre raga o x se giocate da ps e con l'alanogico sinistra spremendo avrete anche il turbo è una cosa assurda ragazzi la nuova bicicletta elettrica su gt 5 online quindi una volta che vi siete fatti la gara raga che è veramente una stupidaggine perché col turbo è facile arrivare entro i due minuti avremmo sbloccato la nuova tuta adesso vi lascio al video velocizzato e poi ci vediamo direttamente dal negozio di vestiti quindi ragazzi una volta qua andiamo a cercarci completi da racing le solite tute raga dove prendiamo sempre le spalline e ci sarà la tuta da jag energy raga guardate che bomba e sbada bam raga porterò magari un outfit con questa tuta prossimamente quindi lasciate un like se vi è piaciuto il video lasciate un commento supportate savix e supportate il canale e alla prossima bella raga sbada bam ciao